Musica Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Verso le elezioni sulle frequenze di Antenna Sud. Siamo partiti ieri con il comune di Ginosa. Proseguiamo il nostro viaggio oggi con Fragagnano e vi presentiamo ovviamente quelli che sono i due candidati alla carica di sindaco e in questo caso sempre in ordine alfabetico come faremo sempre presentiamo Francesco Fischetti di un patto per Fragagnano e Giuseppe Fischetti di Fragagnano 4.0. In questa mezz'ora naturalmente saremo particolarmente rapidi e veloci nell'ostrirvi il maggior numero di informazioni su quello che secondo i nostri candidati sarà il presente e il futuro di Fragagnano. Io direi di partire subito con la prima domanda che sicuramente è un po' scontata, ci perdonerete per questo. La domanda è perché scendete in campo con quale programma elettorale? Quindi partiamo da Francesco Fischetti di un patto per Fragagnano. Buonasera dottor Spalluto, innanzitutto la ringrazio per l'ospitalità, ringrazio l'emittente Canale 85 e saluto tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Il patto per Fragagnano si propone per le amministrative 2021 per cercare di dare il proprio contributo all'attività amministrativa del nostro comune. La mia non è una candidatura singola, ma è la candidatura a espressione di un gruppo, un gruppo civico di persone che ha inteso condividere un percorso politico, programmatico e soprattutto amministrativo a livello locale e che intende proporsi alla guida del comune di Fragagnano. Il nostro programma è un programma che abbiamo in linee generali presentato già domenica alla cittadinanza fragagnanese con un pubblico comizio e l'abbiamo anche distribuito sia in formato cartaceo che in formato pdf. È un programma che è ricamato sulle esigenze del nostro comune, è un programma semplice e soprattutto attuabile, che magari anche nel corso della trasmissione cercheremo di esplicare sotto tutti i punti di vista e per tematiche. Certamente, noi passiamo rivolgendo la stessa domanda a Giuseppe Fischetti, Fragagnano 4.0, sindaco uscente. Buonasera a tutti, intanto credo che la mia ricandidatura sia quasi un atto dovuto, un atto dovuto per dare continuità a tutto ciò che è stato comunque portato avanti con grande sacrificio, con grande impegno, con grande dedizione e passione in questi cinque anni. Ritengo di aver centrato insieme a tutta la mia squadra e insieme a tutto il movimento, perché noi ci bantiamo di proporre alla cittadinanza non l'idea di un singolo, ma una politica di un movimento che era Fragagnano 2.0, quest'anno è diventato Fragagnano 4.0, l'ho detto centinaia di volte, come una sorta di aggiornamento software che deriva da molteplici risultati che noi abbiamo ottenuto. Per cui il 3 e 4 ottobre ci proponiamo alla cittadinanza con un programma che sicuramente ha una caratteristica fondamentale e che è quello della concretezza. La concretezza perché il nostro programma elettorale si basa su ciò che è stato già fatto in questo quinquennio. Se ho qualche secondo disponibile posso fare anche alcuni esempi già da subito. Magari li facciamo, visto che il suo collega ha diviso la domanda in due dicendo poi il programma, quello la facciamo subito dopo e ricominciamo il giro. Vi chiedo a questo punto, perché è giusto far conoscere i nostri telespettatori, quelli che sono gli elettori di Fragagnano, meglio i nostri candidati, vi chiedo di tracciare velocemente un vostro profilo personale. Quindi chi è Francesco Fischetti? Francesco Fischetti è un fragagnanese, ha 38 anni, è un avvocato penalista da sempre appassionato innanzitutto alla politica e poi soprattutto innamorato del proprio paese. Francesco Fischetti ha deciso di vivere a Fragagnano, di investire anche dal punto di vista professionale, dal punto di vista familiare. Francesco Fischetti intende mettere a disposizione il proprio tempo, la propria passione, la passione che negli anni lo ha sempre mosso nell'interesse e nei confronti della comunità fragagnanese a disposizione della nostra comunità, perché ritiene Francesco Fischetti che non bisogna assolutamente esimersi dall'impegnarsi per la crescita del proprio territorio e nella forma democratica che noi tutti conosciamo il massimo impegno che si possa condurre è quello di partecipare attivamente alla competizione democratica, dando il proprio contributo di idee, di passione, il proprio contributo anche in termini di tempo, di esperienze e di valori che durante il percorso della vita ognuno di noi acquisisce. Passiamo a Giuseppe Fischetti, chi è Giuseppe Fischetti? Oggi sono un sindaco, sono il sindaco di Fragagnano, uscente, mi onoro di esserlo, nella vita faccio chiaramente anche altro, dal punto di vista politico sono appassionato di questa materia, di questa tipologia di vita da un bel po' di anni, ho avuto modo di avere le mie prime esperienze politiche nel 2007 facendo l'assessore alle finanze, oggi ripeto faccio il sindaco ed anche il vicepresidente della provincia, dal punto di vista invece personale credo che i miei concittadini lo sappiano benissimo, io svolgo la professione di commercialista, lo faccio nell'ambito della provincia di Taranto ma non solo, anche a Roma in particolar modo ma in altre zone d'Italia, per cui una vita abbastanza complessa e impegnativa, se dovessi scegliere quale delle due cose portare avanti sinceramente non saprei dare ancora oggi una risposta perché sono entrambe le cose davvero derivanti da una forte passione, per cui è difficile conciliarle ma sono contento di farlo. Allora adesso torniamo a parlare, visto che avete accennato all'inizio con la prima domanda, vi chiedo di indicare le vostre due priorità elettorali, quindi partiamo con Francesco Ficchetti. Le priorità elettorali sono di due tipi, una priorità immediata che è quella di ripristinare un minimo di decoro all'interno del nostro territorio, quando parliamo di decoro parliamo di pulizia, di ordine, di sfalcio dell'erba, di pulizia del verde pubblico, di pulizia delle aree verdi pubbliche e poi c'è una priorità di carattere generale che è quella di renderci conto innanzitutto che Fragagnano, così come i comuni della nostra provincia, è al centro ormai di una più ampia area vasta, fortemente interessata da un grosso sviluppo turistico e per questo Fragagnano deve entrare a pieno titolo in questa area di sviluppo turistico dotandosi di tutte le infrastrutture necessarie, soprattutto partendo da una riorganizzazione urbanistica del paese. Fragagnano ha adottato il piano urbanistico generale già qualche anno fa, oggi necessita di ulteriori atti amministrativi affinché poi anche la crescita e l'urbanizzazione in maniera coordinata del paese continui, Fragagnano necessita anche di un piano di recupero del centro storico attraverso un'approvazione di un piano del colore degli immobili del centro storico stesso. Poi da questo, passando per la cultura fragagnanese, perché Fragagnano vanta una storia davvero antica, si può tracciare un percorso che passi attraverso, come ho già detto il turismo, l'agricoltura che è un comparto molto importante, sta diventando, così come in tutta la nostra regione, anche interessante dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista anche economico. Giuseppe Fischetti, quali sono le due priorità che indica da ricandidato? Sì, intanto nel segno della continuità rispetto a quello che è stato fatto in questi cinque anni, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è fondamentale continuare nel solco dei lavori pubblici. I lavori pubblici per i quali noi abbiamo investito quasi 10 milioni di euro in cinque anni, sono il punto cardine, uno dei punti cardine di un'amministrazione, perché delineano, disegnano il volto di un territorio e questo volto è fondamentale ai fini dell'attrattiva, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista turistico e le due cose sappiamo bene sono strettamente concatenate ed è per questo che già da subito noi abbiamo la disponibilità, subito intendo nel prossimo mandato, qualora i cittadini ci volessero riconfermare, abbiamo già da subito la disponibilità di 4 milioni di euro, 1 milione di euro per la Taranto Lecce, la Statale, 1 milione 360 per la riqualificazione del primo piano del Palazzo Marchesale, 1 milione 300 mila euro per la scuola materna, 1 milione 125 mila euro per la rigenerazione urbana, si tratta di fondi già acquisiti attraverso uno studio, una progettazione, un'acquisizione derivante dalla partecipazione a bandi, per cui siamo pronti a continuare ciò che sostanzialmente abbiamo approntato in questa ultima fase di mandato elettorale. Il secondo aspetto pregnante del nostro programma elettorale e credo lo debba essere davvero di tutti i 1300 comuni che vanno al voto in Italia è il PNRR. Io quando leggo un programma elettorale che è scarno rispetto a questa tematica, che non propone questa tematica, mi chiedo in quale parte del mondo stiamo vivendo oggi, perché se ne è parlato per oltre un anno, tutto il 2020, gli anni che verranno saranno quelli più importanti per l'Italia e per l'Europa, 290 miliardi di euro che verranno investiti sul territorio, per quel che riguarda l'Italia, il 40% al sud, il 60% al nord, ma si tratta comunque di risorse importantissime e la pianificazione che viene fatta a livello centrale, a differenza di tutte le altre condotte fino ad oggi, prevede che siano i comuni a gestire direttamente queste risorse, per cui un aspetto imprescindibile in un programma elettorale. Uno degli aspetti, a nostro parere, più importanti soprattutto al sud è quello della fuga dei cervelli, che ovviamente è importante nelle città, ma è importante anche nei comuni più piccoli. Quindi vi chiedo di disegnare la situazione del vostro comune e cosa si può fare per evitarla. Ma guardi, io la ringrazio per questa domanda perché è un tema a noi molto caro. Anche Fragagnano sta vivendo un forte decremento della popolazione ed è evidente, lo dico da cittadino nato nel 1983, insomma, che le classi più giovani siano emigrate o stiano emigrando purtroppo, soprattutto verso il nord. Noi ci auguriamo si possa invertire questa tendenza cercando di attrarre non solo quelli che vengono definiti cervelli, ma di attrarre tutti i nostri concittadini e non solo i nostri concittadini, magari attrarre anche gente dall'esterno a venire ad abitare a Fragagnano, a vivere a Fragagnano. Noi ospichiamo che i nostri comuni, che il nostro comune diventi un paese per giovani, nel senso che i giovani, le giovani famiglie, possano trovare attrattivo, possano trovare delle risposte alle proprie esigenze all'interno del nostro comune. Ad esempio, dando impulso al secondo lotto della zona industriale, Fragagnano è dotato di un secondo lotto di zona industriale urbanizzato ormai più di cinque anni fa dall'amministrazione di cui facevo parte nel quinquennio 2011-2016 e poi rimasto fermo. Quindi il mancato investimento da parte di imprenditori, di aziende all'interno del nostro territorio, magari può aver anche incrementato, incentivato questo decremento della popolazione, perché le opportunità potrebbero essere anche diminuite. Ma oltre questo, durante questi lunghi mesi di pandemia abbiamo conosciuto anche un ritorno da parte dei nostri concittadini, i quali piuttosto che rimanere nelle grosse metropoli a vivere all'interno di piccole abitazioni, hanno preferito durante il periodo di smart working rientrare nei nostri paesi, magari per godere anche un po' della qualità della vita di cui noi godiamo per vivere all'interno dei nostri paesi. Anche questo può essere un'opportunità, cercare di dare oggi delle risposte immediate a queste persone che hanno la possibilità di rientrare, di lavorare, di vivere nei nostri comuni e incentivare gli stessi a rimanere creando anche delle opportunità che possono essere durature. Stesso tema l'analisi di Giuseppe Fischetti. Certamente il decremento demografico è un problema che appartiene, io non direi soltanto ai comuni del sud Italia principalmente, ma appartiene un po' al nostro vecchio continente, se non fosse per i flussi migratori che cercano in qualche modo di ristabilire la bilancia demografica. Naturalmente per poter consentire ai giovani, alle giovani coppie di restare nell'ambito del proprio territorio comunale sono necessari interventi che sicuramente sono di competenza dell'ente in parte, ma naturalmente attengono a una politica che non può che essere una politica nazionale. Per quel che ci riguarda, soprattutto negli ultimi mesi, abbiamo già pianificato un rilancio del secondo comprensorio della zona industriale con una pianificazione e una progettazione già presente al baglio degli uffici tecnici, che tuttavia sconta una problematica importantissima, un contenzioso di un milione e mezzo di euro ancora in piedi risalente al credo 2013-2014, per cui da un punto di vista finanziario chiaramente questo tipo di problema crea un minimo di paralisi anche nell'azione che si andrà ad intraprendere. Lo stiamo comunque facendo, stiamo valutando diverse opportunità anche in relazione a una organizzazione provinciale, perché mi sono fatto portavoce in provincia di Taranto, come consigliere, come vicepresidente della provincia, di inserire nell'ambito del master plan provinciale anche delle arterie del comune di Fragagnano che consentono quei collegamenti indispensabili per attrarre imprese, perché un'impresa non verrà mai ad investire in un territorio che chiaramente è privo di strumenti di comunicazione e di intercomunicazione. Parliamo adesso di temi cari ai giovani, ma non solo, ma vi ricordiamo che state seguendo verso le elezioni la tribuna elettorale di Antena Sud dedicata a questo oggi al comune di Fragagnano e partiamo con un nuovo giro riguardante sport, tempo libero, cultura, spettacoli, come immaginate il futuro nel vostro comune e quanta importanza hanno per non solo l'economia ma anche la vivibilità del vostro comune e partiamo da Francesco Fischetti di Un patto per Fragagnano. Sì, lo sport è importantissimo all'interno soprattutto di una piccola comunità quale quella di Fragagnano. Innanzitutto bisognerebbe intervenire quindi sull'impiantistica sportiva, sulle strutture già esistenti che necessitano purtroppo di una manutenzione anche straordinaria. Basti pensare al Palazzetto dello Sport, chiuso da tanti anni, che neanche in questi ultimi cinque anni è stato interessato da lavori di ristrutturazione, penso ai campi da tennis, penso a tantissime altre strutture che all'interno del nostro paese avrebbero la necessità di essere riqualificate. Ma immagino anche la creazione di un percorso di walking che possa dare la possibilità a tutti i nostri concittadini di vivere anche a piedi così come si usa sempre più spesso fare nelle nostre comunità, il nostro paese in sicurezza, magari anche durante le ore notturne, durante i mesi invernali. Lo sport però non è solo impiantistica sportiva o non è solo attività sportiva agonistica, ma lo sport soprattutto è aggregazione sociale, quindi lo sport inteso come vicinanza alle associazioni sportive, soprattutto le associazioni sportive locali riconosciute e che facciano attività con i bambini, con le generazioni più giovani, perché sappiamo bene che lo sport è vita, lo sport è anche cultura e quindi mi collego anche al tema della cultura, al tema della comunità. Fra Gagnano è un paese vivace, frizzante, è un paese all'interno del quale operano tantissime associazioni e il nostro obiettivo è quello di mettere in rete le associazioni, di farle collaborare tutte insieme e magari perché no di dare loro anche una struttura all'interno della quale potersi riunire, esprimere e soprattutto creare un coordinamento affinché poi le varie iniziative delle varie associazioni possano essere gestite sempre in maniera migliore con il contributo di tutti. Per questo abbiamo anche immaginato di poter dotare il nostro comune di una casa delle associazioni, un luogo fisico all'interno del quale ci possa essere anche uno scambio, lo scambio culturale e crescita. La stessa domanda adesso la rivolgiamo a Giuseppe Fischetti, Fra Gagnano 4.0, quindi sport, cultura, tempo libero. Allora per quel che attiene alla tematica sport ritengo che già siamo sulla buona strada, parlo chiaramente dell'amministrazione comunale uscente, abbiamo ottenuto un finanziamento di oltre 100 mila euro dalla regione Puglia per la riqualificazione dello stadio e sono iniziati da poco i lavori per il recupero di questa struttura che comunque è assolutamente funzionante. Abbiamo avuto un altro finanziamento di oltre 100 mila euro per la ristrutturazione di un campo da tennis abbandonato forse da 30 anni, io ricordo che ero bambino si andava a giocare lì e adatteremo questa struttura, o meglio daremo a questa struttura la finalità di un campo di baskin, quindi altamente inclusivo, il basket giocato da persone normodottate, da persone diversamente abili e il mondo dei disabili è un mondo al quale noi guardiamo con estrema attenzione, per cui lo sport inteso anche non soltanto sport per quello che intendiamo solitamente, ma uno sport per tutti, quindi uno sport inclusivo. Abbiamo partecipato a due bandi che prevedono un finanziamento di 300 mila euro per la riqualificazione delle palestre, delle scuole. L'unico cruccio, se possiamo chiamarlo così, mio personale, è il palazzetto dello sport, perché anche per una mia scelta che deriva da una politica di bilancio, non ho voluto contrarre prestiti con l'istituto per il credo sportivo che ci avrebbe finanziato immediatamente dai 500 al milione di euro per la ristrutturazione del palazzetto dello sport, stiamo valutando altre opzioni anche alla luce dei giochi del Mediterraneo che ci saranno, anche alla luce del PNRR, per cui se riusciamo chiaramente a ottenere delle risorse che non incidano sul bilancio lo faremo sicuramente, altrimenti oggetto della prossima programmazione sarà indiscutibilmente la ristrutturazione anche del palazzetto dello sport. Passando invece alla cultura, noi abbiamo creato quello che ritengo sia lo spazio culturale più importante degli ultimi vent'anni a Fragagnano, ovvero abbiamo riqualificato il giardino del palazzo Marchesale che ha una valenza culturale, storica, architettonica, ospitando una rassegna, più rassegni in realtà, alla presenza di personaggi di grande calibro, quindi giornalisti di livello nazionale, politici di livello nazionale, editori di livello nazionale anche oltre. Ritengo che siamo davvero sulla strada giusta, dobbiamo continuare in questa direzione. Altre due parole focali per un comune come Fragagnano ma per tutti i comuni sono agricoltura e turismo, quindi partiamo da Francesco Fischetti. Sì, l'attività agricola come ho già detto in apertura e in continua espansione nei nostri territori è anche a Fragagnano, sempre più giovani ormai si affacciano all'attività agricola ed è quindi necessario che la pubblica amministrazione sia a fianco di queste persone, giovani e meno giovani, che ormai investono il proprio tempo, il proprio denaro e il proprio lavoro nel comparto agricolo. Ovviamente Fragagnano ha una ricchezza inestimabile che è quella del proprio territorio, del proprio agro, all'interno del quale così come tutti i nostri territori ci sono dei bellissimi vigneti e dei bellissimi oliveti che vanno però salvaguardati e curati. In che modo? Il comune può sicuramente, anzi deve ed è quello che è mancato in questi anni, stare al fianco degli agricoltori innanzitutto facendo delle campagne informative, cercando di dare gli strumenti anche agli agricoltori dal punto di vista della informazione con corsi di formazione, con informazione ad esempio su quelli che sono i pericoli dell'agricoltura e immagino il problema dell'axilella che ormai attanaglia i nostri oliveti e del quale purtroppo non si è parlato negli ultimi anni. Bisogna stare vicino agli agricoltori anche dal punto di vista infrastrutturale, quindi con il recupero delle strade rurali che sono praticamente impercorribili in alcuni punti, con la pulizia delle stesse perché vengono percorse giornalmente da tantissimi mezzi e quant'altro, quindi ripeto il mondo dell'agricoltura è un mondo molto importante, un mondo a fianco del quale la pubblica amministrazione ormai deve essere presente in maniera evidente. Mi dispiace dirlo ma negli ultimi anni purtroppo l'amministrazione è sembrata carente da questo punto di vista ed è sembrata anche assente. Mi permetto di dire, giusto così, un riferimento ai giochi del Mediterraneo e al Palazzetto dello Sport, se non mi sbaglio le sedi degli incontri delle gare dei giochi del Mediterraneo sono state già individuate e il Comune di Fragagnano non rientri tra i comuni interessati per disputare le gare. Ecco anche questa è una cosa che dispiace perché è un'opportunità che il Comune di Fragagnano ha perso e che chissà quando arriverà. Ovviamente stesso argomento ma anche facoltà di risposta se vuole. Grazie, una rapidissima replica perché l'individuazione dei siti ha riguardato strutture già compatibili con i giochi, chiaramente Fragagnano non era dotata come tantissimi altri comuni. Quando faccio riferimento ai giochi del Mediterraneo ovviamente mi riferisco alle economie di gara che saranno tantissime che verranno poi utilizzate per poter sostenere anche strutture sportive che invece appartengono ad altri comuni non interessati direttamente dai giochi. Ma al di là di questo aspetto per quel che concerne invece l'agricoltura sappiamo benissimo che in questi anni uno dei simboli delle coltivazioni territoriali ovvero l'ulivo è fortemente compromesso dal fenomeno della xylella. Fenomeno che è difficile da combattere, si stanno sviluppando delle soluzioni che però sono difficilmente praticabili. Il compito dell'amministrazione comunale quale sarà? Lo abbiamo inserito anche nel nostro programma elettorale. Quello di dare una spinta alla diversificazione perché soltanto attraverso la diversificazione delle coltivazioni sarà possibile sviluppare ulteriormente l'agricoltura nel nostro territorio. Per cui ci concentreremo su questo come su tante altre cose ma vedo che il tempo è tiranno. Abbete un minuto a testa il vostro sogno per Fragagnano. Quindi mi raccomando veloci partendo da Francesco Fischetti. Il sogno per Fragagnano non è utopia. Il sogno per Fragagnano è che Fragagnano continui ad essere un paese vivibile così come lo è adesso ma possa migliorare sotto tanti punti di vista. Possa ritornare ad essere un paese comunitario. Il mio sogno è quello. A me piace parlare di sindaco dei Fragagnanesi ma non di sindaco di Fragagnano perché secondo noi il primo aspetto da curare è quello proprio di far tornare al paese una comunità. Una comunità unita, operosa che possa anche essere competitiva con le comunità vicine. Giuseppe Fischetti. Il sogno per Fragagnano secondo noi è quasi una realtà perché tutto ciò che abbiamo programmato nella nostra pianificazione elettorale è assolutamente fattibile e ci darà la possibilità di avere tra pochissimi anni un centro storico all'altezza di comuni importanti non distanti da noi ma che hanno fatto la fortuna con i propri centri storici. di avere anche delle periferie riqualificate grazie al PNRR come dicevo prima. Di avere un comune a misura di uomo. Lancio soltanto un'ultima notizia che è comunque contenuta nel programma. L'agenda digitale, il fascicolo digitale. Quindi il cittadino da casa con lo smartphone potrà accedere a certificati, potrà accedere a richieste, potrà verificare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche. Quindi un'accelerazione nella macchina amministrativa. Di accelerazione abbiamo parlato e accelerazione anche per la chiusura di questa nostra tribuna elettorale dedicata al comune di Fragagnano. Innanzitutto il mio personale ringraziamento per la cortesia e per la gentilezza a Francesco Fischetti di Un Patto per Fragagnano e a Giuseppe Fischetti di Fragagnano 4.0. Naturalmente ad entrambi va il nostro in bocca al lupo e vinca il migliore perché poi naturalmente questo va sempre a tutto vantaggio dei cittadini. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi rimandiamo naturalmente al prossimo appuntamento con Verso le elezioni sulle frequenze di Antena Sud.